Hemos vuelto chicos, que claro, nos vamos a dejar agli colgados con o sin practicar con los pronombres relativos, eh? Yo y la profrober os vamos a ayudar. Oggi vi aiutiamo proprio per mettere in pratica un po' questi pronomi relativi. Mica vi posso lasciare lì appesi, senza avere degli esempi. E quindi prendo proprio degli esempi da uno dei libri che utilizzo per gli esercizi e ve li propongo per farvi vedere l'utilizzo dei pronomi relativi. Quindi iniziamo con una frase normalissima tipo Esa es la camarera, la unisco a un'altra frase, con la che se ha casado Eugenio. Con la che sarebbe con la quale, con cui si è sposato Eugenio. Con la che. Dovete ricordarvi di inserire l'articolo perché che in questo caso è preceduto da con. Avrei potuto anche dire con la qual se ha casado Eugenio. Altro esempio. Era un tema per il quale lui, con tilde in quanto pronome soggetto, dimostrava molto interesse. Oppure Me encanta los pendientes que Eva te ha traído de Marruecos. Quindi mi piacciono tantissimo, adoro gli orecchini che Eva ti ha portato dal Marocco. Che in questo caso senza articoli o preposizioni, perché di solito è così. Se c'è la preposizione devo inserire anche l'articolo. Andiamo un po' più avanti. Sempre con che. Noi sasi che te dije che tenias che hacerlo. Non è così che ti ho detto che dovevi farlo. Ora vediamone uno importante con cuiio. Vi ricordate? Di cui, di chi, del quale, della quale. Quindi cuiio, cuiia, cuiios, cuiias. Attenzione. Il tio del Raffaele, coma, virgola, cuio rostro reflejava un gran enfado, il di cui viso, quindi il viso dello zio di Raffaele mostrava una grandissima arrabbiatura, enfado. Quindi, cuiio rostro si riferisce al viso dello zio, il di cui viso rifletteva una grande arrabbiatura, se levantò e se fuè. Il tio del Raffaele, cuiio rostro reflejava un gran enfado, coma, se levantò e se fuè. Continuiamo. Puntini puntini, nazio sorriglia. Posso dire en la che, mettendoci l'articolo in quanto c'è una preposizione, quindi che, en che non lo posso dire, devo dire en la che, riferito alla casa, oppure en la cual. Soprattutto se è formale, quello che stiamo dicendo, en la cual ci sta molto bene. Attenzione, eccone un altro. Pregunta. Esas chicas son tus hermanas? Respuesta. No. Mis hermanas son, in italiano sarebbe no, le mie sorelle sono quelle che stanno sedute dietro. E in spagnolo, quelle, lo dico? No, la prof. Robert también nos lo dice. Non lo dico quelle in spagnolo, devo utilizzare l'articolo che si riferisce a hermanas, quindi las, unito al pronome relativo. Quindi. Esas chicas son tus hermanas? No. Mis hermanas son las, che están sentadas detrás. Vedevano un altro con quien, oppure quienes. En la recepción estaba también Roberto a, puntini puntini, ya había visto por la mañana en la conferencia. In questo caso, riferito a Roberto, a chi? Quindi io questo Roberto, riferito a persona, l'avevo già visto. Quindi, in la recepción estaba también Rodolfo, perdón, bueno, da igual. A quien ya había visto por la mañana en la conferencia. Y si eran dos, Roberto y Rodolfo, por ejemplo? Pues, en la recepción estaban, verbo al plurale. También, anche Rodolfo y Roberto, a, chi plurale en spagnolo, a quienes, a quienes, ya había visto por la mañana en la conferencia. Ah, in questo caso, è chi si riferisce a due persone. Ultimo. E l'armario, puntini puntini, mia abuela guardava la ropa d'invierno, era del siglo XVIII. Quindi, l'armario nel quale, mia nonna teneva da parte i vestiti invernali, era del XVIII secolo. Quindi, e l'armario, e nel che, oppure, molto più formale, e nel qual, mia nonna teneva da parte, eccetera, eccetera, era del siglo XVIII. Quindi, e nel che, oppure, e nel quale, ok? Ok, bueno, un poquitos de ejemplos, ya los tenemos, pondré más en el tutorial, y, por supuesto, nos vemos, nos vemos, la próxima, la próxima, hoy que no puedo hablar. La próxima vez, chicos, besazos con la Prof. Roe. Bye, bye.